Buongiorno a tutti, oggi siamo con la Bosch Logix Auto Sensitive Stiamo facendo un lavaggio sintetici, però 40 gradi, 800 giri, mancano 1 ora e 19 con pre lavaggio, grado di sporco normale e aggiunta di risciacqui come vedete il carico è veramente pochissimo infatti in questa macchina quando dobbiamo lavare i delicati diciamo che per i delicati questa macchina non è proprio adeguata perché avendo un cesto bello ampio i delicati sono leggermente inutili da lavare piuttosto si lavano insieme ad altre roba però oggi avevano bisogno di un lavaggio solo, dedicato solo per loro allora oggi come vedete non sto facendo il video con la mia telecamera credo che si noterà sicuramente perché ho deciso che inizierò a fare i video con il mio nuovo cellulare della Samsung Samsung A7 2018 con cui io mi trovo splendidamente e poi fa delle foto e dei video splendidi rotazioni delicate come vedete c'è tanto sapone perché abbiamo esagerato leggermente oggi bene ci vediamo nella prossima parte dove vedremo la parte tra la centrifuga intermedia tra il pre lavaggio e il lavaggio ciao bene sta facendo lo scarico dell'acqua del pre lavaggio rotazioni perfetto bilanciamento scusatemi se vibra ma sto tenendo qua perché purtroppo la plastica si sta staccando sapone e spero che riesca a toglierne un po' perfetto bilanciamento del carico ancora niente ancora niente non 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 la pompa sta andando a tutt'ondare ok si è fermato a due secondi ripartita partenza della centrifuga che mi ricordo che ha soli 800 giri mi sa che c'è qualcosa nella bomba che strano questo rumore bene ci vediamo nella parte del lavaggio bene siamo nel carico dell'acqua del lavaggio qui sta procedendo il carico dell'acqua come vi faccio notare la macchina inizia con carico dell'acqua con cesto fermo poi vedremo che incomincerà a girare con cestello in movimento e getto in azione ecco ecco fatto il getto carico del detersivo perfetto giri tranquilli io dico tranquilli ma in realtà si dice delicati giri delicati e anche molto lunghi riconoscimento del carico ecco è lungo oh inizia che sei lungo come giro inizia che sei lungo come giro inizia che ok partenza del lavaggio non farò tutto il video farò cioè non farò tutta la parte tutte le parti quindi centrifuga intermedia risciacquo centrifuga risciacquo centrifuga risciacquo ammorbidente e centrifuga finale ma bensì farò la parte del lavaggio e basta aumentiamo un attimino la luminosità così vedete meglio e adesso la diminuiamo così rivedete normale ok ok Grazie. Anzi, ho cambiato idea. Adesso mi stoppo e ci ritroviamo nella parte del cooldown. A dopo.